Buongiorno amici delle pillole immobiliari live e delle pillole in pillole versione estiva sotto l'ombrellone anche se di sotto l'ombrellone abbiamo davvero poco. Oggi una piccolissima diretta per parlare dell'approccio del consulente barra agente immobiliare ma anche del cliente venditore alla compravendita. Questa diretta ripeto andrebbe fatta vedere anche ad alcuni colleghi non tutti ovviamente ad alcuni colleghi agenti immobiliari e perché dico questo? Troppo spesso faccio una premessa in anni di carriera nell'ambiente immobiliare non ho mai trovato un immobile una casa un capannone un negozio che mi abbia chiesto di essere venduto o acquistato. Sono sempre le persone che hanno esigenze problemi necessità o sogni di vendere o acquistare un immobile. Questo per dire che cosa? Gli immobili sono inanimati sono degli oggetti è ovvio che nell'ambito di una compravendita immobiliare l'immobile è il focus finale il punto finale però sono le persone quelle che hanno delle esigenze e quindi è alle persone e alle loro esigenze ripeto sogni necessità e problemi purtroppo a volte che dobbiamo dare ascolto e dare seguito. Anche i clienti venditori spesso capita di andare magari a casa per vedere un immobile per visionarlo per per fare di conseguenza una valutazione e il cliente ti dice immediatamente le faccio vedere la casa. La mia risposta è sempre un attimo possiamo sederci cinque minuti mi dedica cinque minuti del suo preziosissimo tempo e mi racconta quelle che sono le sue esigenze in merito a questa compravendita. È ovvio che la compravendita sia l'oggetto finale della nostra chiacchierata e di tutto il nostro percorso insieme ma conoscendo esattamente le esigenze e quello che le persone hanno bisogno quello che pensano quello che vorrebbero realizzare non in termini economici ma con l'operazione qual è lo scopo della loro operazione questo ci aiuta a fare un lavoro ottimo perché ripeto sono le persone ad avere esigenze ed è alle persone che bisogna dare conto e seguito in una compravendita immobiliare sempre venditori acquirenti e ripeto anche alcuni colleghi dovrebbero entrare in quest'ottica perché troppo spesso si sente ancora in giro di gente che si fa prendere dall'ansia per per avere a tutti i costi un incarico senza nemmeno sapere la storia di quelle persone quali sono le loro necessità è fondamentale dare ascolto e dedicare la propria attenzione massima alle persone vi do appuntamento alla prossima pillola delle pillole immobiliari live buona serata e buona estate a tutti ciao ciao